Il documento non per cassa ma per equità è stato elaborato dall'Inps sulla base di un mandato del governo nell'ambito di un dialogo costante con l'esecutivo ed è stato presentato nel suo complesso nel giugno del 2015, poi nel novembre del 2015 su richieste esterne concordando questo con il Consiglio dei Ministri abbiamo deciso di renderlo pubblico. Il documento elabora delle proposte che sono sull'asse assistenza previdenza, una parte molto importante, in effetti delle proposte vanno proprio a riguardare i problemi della povertà che è cresciuta così fortemente durante la crisi, sono aumentati di circa 4 milioni i poveri in Italia e soprattutto c'è una fascia di età, quella delle persone che hanno più di 55 anni e che non hanno ancora maturato i diritti per andare in pensione, che si è trovata in condizioni di grande disagio, la povertà tra questa categoria di persone è aumentata di più che in qualsiasi altra fascia di età, abbiamo quindi voluto pensare particolarmente a loro, proponendo di istituire in Italia un reddito minimo garantito, è una cosa che esiste in tutti i paesi dell'Unione Europea, esiste anche in molti paesi dell'America Latina, esiste anche in paesi africani, non esiste ancora in Italia, come funziona questo strumento? Si garantisce alle persone un certo livello di reddito minimo, per una persona singola, una famiglia con un solo componente, questo livello minimo viene stabilito in 500 Euro, quindi se questa persona per esempio avesse 300 Euro, noi andremo a darle 200 Euro in modo tale da portarle al di sopra di questa soglia di povertà, se la famiglia ha più componenti questa soglia si aggiusta, in modo tale da tenere conto anche dal fatto che ci sono delle economie di scala, dei risparmi che si possono fare aumentando la dimensione, per esempio se c'è un nucleo familiare con due persone adulte, il livello di reddito diventa, non diventa 1000, non raddoppia, ma diventa 750. Ci sono poi altri requisiti che vanno soddisfatti di tipo patrimoniale per poter accedere a questo trasferimento, noi poniamo come primo requisito il fatto che non abbiano una casa di proprietà che vale più di 150 mila Euro e il secondo requisito è che non abbiano un conto in banca o un patrimonio mobiliare che superi tre volte l'importo del reddito minimo, quindi in questo caso per esempio di una famiglia con un solo componente 1500 Euro. Come finanziamo questa operazione? Andando a riordinare le prestazioni assistenziali che noi oggi concediamo spesso alle persone che hanno i redditi più elevati, il 30% di persone che hanno i redditi più elevati in Italia riceve circa 5 miliardi di prestazioni assistenziali e questo perché queste prestazioni assistenziali oggi vengono date senza davvero tenere conto della condizione reddituale della famiglia in cui vivono, questo è un errore perché vuol dire sprecare delle risorse e quindi noi andremo a rimodulare i trasferimenti a queste persone in modo tale da ridurne gli ammontari di questi trasferimenti di natura assistenziali e per famiglie che hanno dei redditi particolarmente elevati le toglieremo del tutto queste prestazioni assistenziali, per esempio una famiglia di 4 componenti con un reddito complessivo superiore a 100 mila Euro non potrà più ricevere queste prestazioni di natura prettamente assistenziali. La seconda grande blocco di proposte di questo documento riguarda invece la previdenza e qui la prima cosa che noi vogliamo fare è garantire una certa flessibilità in uscita, ci sono molte persone che sono state bloccate dalla riforma del 2011 e che vorrebbero davvero ritirarsi dalla vita attiva, hanno altri piani individuali e sono disposti a farli anche a costo di avere una pensione più bassa, questo è possibile oggi semplicemente applicando alle pensioni cui avrebbero diritto degli aggiustamenti che tengono conto delle stesse regole che varranno poi in futuro con il sistema contributivo, per esempio una persona che nell'ambito puramente del sistema retributivo, il vecchio sistema pensionistico, quello che prevaleva per tutti prima del 1996, arrivasse a maturare una pensione di 25 mila Euro con le regole attuali e volesse andare in pensione a 63 anni e 7 mesi potrebbe farlo con una riduzione di circa l'8% dell'importo della pensione, quindi 3 anni prima con un 8% di riduzione, quindi attorno ai 23 mila Euro di pensione, chi è invece in un regime misto, quindi ha pagato parte col retributivo, parte con il contributivo, vedrebbe una riduzione molto minore, perché la riduzione si applica unicamente, questo aggiustamento si applica unicamente alla quota retributiva della propria pensione, quindi nell'altro caso che vi facciamo vedere, l'aggiustamento sarebbe attorno al 4,5%. Ci sono poi altre due condizioni che si applicherebbero alle persone per permettere loro questa uscita flessibile, prima di aver contribuito almeno 20 anni, ma questo è un vincolo che non si applica normalmente, perché chi arriva a quell'età normalmente ha più di 20 anni di contributi, la seconda invece è una condizione più stringente, dovrebbero avere una pensione di almeno 1.500 Euro, perché poniamo questa restrizione, perché vogliamo impedire che dei datori di lavoro si approfittino magari dei lavoratori che hanno delle condizioni contrattuali deboli, spingendoli verso la pensione e condannandoli a ricevere sempre una pensione molto bassa, se questo viene fatto poi alla fine si condanna delle persone a condizioni quasi di povertà per lungo tempo, però noi vogliamo allo stesso tempo concedere la possibilità sia al datore di lavoro che al lavoratore di superare questa soglia, se il datore di lavoro dà dei contributi volontari all'Inps e quindi porta il titolare della pensione ad avere una pensione a quel punto superiore a 1.500 Euro, quel lavoratore potrà poi percepire la pensione, lo stesso può fare il lavoratore, può per esempio continuare a contribuire al proprio sistema anche se dovesse in qualche modo, questa è una scelta in cui noi vogliamo superare questa cesura, quando si dice oggi si va in pensione, come se uno dovesse proprio rinunciare a qualsiasi lavoro, noi vogliamo invece dare una filosofia in cui si prende la pensione, si può prendere la pensione e continuare a lavorare, versare i contributi e quindi poter accedere a delle pensioni più elevate. Una seconda operazione molto importante che noi facciamo è quella che guarda le carriere mobili, a persone che hanno avuto un pezzettino di carriera nell'ambito per esempio del pubblico impiego, un'altra parte nel settore privato, oggi queste persone vengono fortemente penalizzate, ad esempio nel caso che vi mostriamo, con le regole attuali una persona che ha lavorato per 35 anni negli enti locali e per 5 anni ha contribuito al fondo pensione ai lavoratori dipendenti e se volesse accedere alla pensione qui avrebbe diritto, avendo contribuito unicamente nel fondo pensione ai lavoratori dipendenti, dovrebbe pagare 95 mila Euro immediatamente per poter fruire di questa pensione di attorno a 1900 Euro. Secondo la riforma che noi metteremo in atto, metteremo in atto chiaramente se le nostre proposte verranno accettate, questo lavoratore invece non dovrebbe pagare nulla oggi e si troverebbe a ricevere una pensione che è proporzionata ai due periodi contributivi, quindi riflette esattamente le regole dei due, i 35 anni negli enti locali e i 5 anni invece che ha contribuito, sarebbe attorno ai 1800 Euro, quindi un po' più bassa di quella che avrebbe maturato passando interamente al fondo pensione, lavoratori dipendenti, ma non dovrebbe chiaramente avere questa spesa così forte iniziale, che tra l'altro è un problema molto serio per persone che hanno dei vincoli di liquidità, che non hanno molta liquidità a disposizione, che non possono accedere al mercato dei capitali per poter prendere a prestito da una banca o quant'altro le risorse necessarie per fare questa ricongiunzione onerosa. La ricongiunzione con la nostra riforma non sarebbe più assolutamente onerosa. L'ultima parte delle nostre proposte riguarda l'armonizzazione dei trattamenti pensionistici ed è una parte che è molto importante anche per finanziare l'uscita flessibile di cui vi parlavo in precedenza. Noi sappiamo che ci sono delle categorie di lavoratori che hanno in passato ricevuto dei trattamenti particolarmente di vantaggio e che hanno potuto andare in pensione con dei trattamenti molto più vantaggiosi di quelli di altri lavoratori. Noi abbiamo documentato queste assimetrie di trattamento in una sezione del sito dell'Inps che si chiama Porte Aperte, in cui siamo andati ad analizzare gestione speciale per gestione speciale queste assimetrie di trattamento. Noi proponiamo di intervenire su queste assimetrie, andando in parte a chiedere un contributo alle persone che si trovano in questa situazione di privilegio relativo rispetto agli altri lavoratori. Questo contributo è proporzionato alle differenze tra quello che percepiscono e quello che avrebbero dovuto percepire alla luce dei contributi versati. L'intervento è molto limitato per chi ha una pensione che è di più di 3.500 Euro, dai 3.500 Euro ai 5.000 Euro l'ordi. In questo caso noi permettiamo che ci sia molta gradualità nell'aggiustamento, noi non andiamo mai a toccare il livello nominale della pensione, soltanto cristallizziamo la pensione e ne blocchiamo la crescita nominale fin quando il livello che è in qualche modo legittimato dai contributi versati arriva a toccare il livello dell'importo che stanno percependo, come nell'esempio grafico che vi stiamo qui documentando. Tenete conto che le riduzioni sono dell'ordine del 7-8%, però se c'è un'inflazione annuale dell'1% io posso completare questo aggiustamento nel giro di 8 anni, quindi è una cosa che avviene molto, ma molto gradualmente. Per chi invece ha dei trattamenti che sono al di sopra dei 5.000 Euro l'aggiustamento è immediato, però anche qui le riduzioni sono mediamente del 10-12%, quindi sono relativamente contenute, dove invece andiamo ad operare un aggiustamento più importante è nel caso specifico dei vitalizi per delle cariche elettive, qui lo dobbiamo fare per forza perché i vitalizi non avevano alcun requisito anagrafico, quindi non possiamo agganciarci all'età alla decorrenza per definire di quanto va aggiustato l'importo dei vitalizi e qui andiamo quindi a rifare interamente il calcolo contributivo, cioè se queste persone avessero versato col metodo contributivo, quello che avrebbero dovuto ricevere sulla base dei contributi versati, in questo caso noi vediamo che le riduzioni possono essere anche molto consistenti, in alcuni casi possono arrivare anche al 50%, in alcuni casi addirittura al 60%, nell'esempio che qui vi stiamo facendo si tratta di un ex parlamentare, oggi un vitalizio di 100.000 Euro, con queste nostre proposte il suo vitalizio verrebbe ridotto a 60.000 Euro. Poi faremo anche degli aggiustamenti particolari per i sindacalisti che hanno avuto delle carriere nel pubblico impiego e ci sono messi in aspettativa che con le regole attuali possono andare poi in pensione con delle pensioni molto relativamente alte rispetto ai contributi che hanno effettivamente versati. Queste proposte guardano ai giovani, nonostante possa sembrare altrimenti, perché il reddito minimo si rivolge a nuclei familiari in cui ci sia almeno una persona con più di 55 anni, l'uscita flessibile chiaramente riguarda le persone che stanno adesso pianificando di uscire verso la pensione. Ma guarda invece davvero ai giovani, perché l'insieme delle proposte porterebbe a ridurre il debito pensionistico di circa il 5%, il debito pensionistico sono tasse che i giovani dovranno pagare durante la loro intera carriera lavorativa. In secondo luogo noi andiamo a facilitare le persone che hanno delle carriere discontinue, rendendo le ricongiunzioni di pezzetti di carriera non più onerose. In terzo luogo noi andiamo a creare un reddito minimo che va principalmente a beneficio di famiglie in cui oggi ci sono delle persone con più di 55 anni, però un futuro, i lavoratori che vengono da carriere precari potranno avere delle condizioni di disagio e di difficoltà e quindi noi costruiamo questo primo spezzone di reddito minimo che speriamo poi venga allargato anche per età inferiori, qualcosa che certamente per il futuro dei giovani sarà molto importante. Quindi davvero noi ci poniamo dal lato dei giovani, le proposte che vengono qui formulate sono delle proposte che guardano al futuro dei nostri giovani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.